cari figlioli salve ben ritrovati sul canale una notizia da darvi guardate siamo sulla piattaforma origin e abbiamo la possibilità di scaricare gratuitamente sims 4 ma solamente per poco tempo quattro giorni due ore 47 minuti e 55 54 53 secondi e così via quindi affrettatevi guardate c'è sia la possibilità di scaricarlo per windows che per me che io c'ho windows e quindi scaricherei di qua ma prima bisogna fare l'accesso scarica ricordo la prima volta che giocare the sims era l'uno e per me fu un qualcosa di bellissimo potersi progettare la casa costruirla con quelle bellissime musichette di sottofondo che erano molto rilassanti e soprattutto cercare lavoro guadagnare soldi crescere i piccoli pargoli mannaccia ero già papà prima di saperlo ottieni gratis sì grazie cari figlioli spero di aver fatto cosa gradita condividendo con voi questa informazione se vi è piaciuta mi raccomando lasciate un like condividete noi ci vediamo prestissimo un altro video ciao a tutti